Le farmacie comunali di Arezzo hanno aderito alla campagna nazionale che è nata dal Dipartimento delle Pari Opportunità per promuovere la sensibilizzazione e l'informazione contro i maltrattamenti, le violenze e lo stalking nei riguardi delle donne. Se sei vittima di stalking o di violenza, chiama il numero 1522. Questo è il messaggio che sarà stampato su tutti gli scontrini delle otto farmacie comunali di Arezzo. Un altro modo per poter essere sempre più vicini ai cittadini. Non sempre le donne che vivono nella bolla della violenza sono a conoscenza che c'è la possibilità di uscire dalla violenza e quindi è un ulteriore messaggio di speranza che è possibile uscire dalla violenza. Le farmacie comunali di Arezzo hanno così aderito alla campagna di informazione e sensibilizzazione nata per contrastare i fenomeni di maltrattamento o stalking ai danni delle donne. Sono molte. Purtroppo spesso hanno paura, quindi fanno fatica a venire fuori a dichiarare questa problematica, però penso che trovare subito evidenziato un numero possa anche aiutarle a portare fuori questo problema sempre più presente. Il numero antiviolenza è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno sia da rete fissa che mobile. Poiché Prontodonna è il centro di riferimento, il centro antiviolenza di riferimento a livello provinciale retino quando una donna di questo territorio chiama il 1522 il numero viene automaticamente girato al nostro numero del centro antiviolenza. Un fenomeno quello della violenza di genere che continua purtroppo a crescere anche in provincia di Arezzo. La realtà riflette un po' quello che sono le percentuali a livello nazionale. Noi nel nostro piccolo abbiamo riscontrato un decremento nel 2020 a causa del Covid. Ovviamente le donne erano limitate nel movimento e anche nella possibilità di accedere al Cava anche se noi non abbiamo mai chiuso. Quindi sono state 260 le donne nel 2020. Nel 2019 310 e ad oggi dal 1 gennaio 21 al 4 agosto 2021 sono 174 le richieste di aiuto che abbiamo accolto. Da quello che abbiamo riscontrato è proprio un incremento percentualmente importante in questi mesi dell'anno probabilmente anche causati dalla compressione e dalla convivenza forzata che c'è stata nel 2020 e quindi che ha innescato dei meccanismi di escalation della violenza.